Caro Erasmus, io sono Palmiero Nocera, also known as Shuriken, e sto andando in Turchia, ad Istanbul, però già mi manca mamma, che sta qua. Vaiù, le cose che porterò con me in valigia di Istanbul sono... La musica, rimango con lo sguardo attonito sotto il mio Panama con queste quarte e come metterla sattiva con la canapa. Il disegno, Pino Daniele, la simpatia, la mia Polaroid, il mio borsello da disegno, la mia collezione di cappelli. Sa che ti ci vuole un caravan. Le cose che torneranno con me da Istanbul sono karma positivo, concentrazione, tranquillità. E sperammo che non sa solo questa valigia, vaiù. Grazie a tutti.